Ciao Minister, complimenti innanzitutto. Credo che sia la vittoria più bella dell'anno, anche perché secondo me è una vittoria che è frutto della consapevolezza, della squadra, del proprio potenziale e della voglia di vincere che ci hanno messo nel secondo tempo. Fermo restando la prestazione incredibile da parte di tutti, per quelle che sono le vostre caratteristiche. Abbiamo sofferto tutti insieme, senza mai perdere lucidità contro una squadra che è seconda in classifica. Io ho una squadra che non ha paura di soffrire, la nostra sofferenza è la nostra gioia e quindi nel momento di difficoltà ci siamo stretti, abbiamo cambiato il sistema di gioco, ci siamo messi lì, abbiamo tenuto botta, poi al secondo tempo gli ho detto se fate le cose che sapete fare, ho dei cambi importanti, perché quando entrano dentro i giocatori ho dei cambi importanti, prima o poi il gol arriverà. Secondo me il secondo tempo è stato un ottimo secondo tempo, tenendo la palla abbastanza alta, cercando di andare a vincere, senza contentarci del pareggio. Questo è un po' la nostra... la diversità della prima parte, cioè non contentarsi di andare a cercare qualcosa di più, sapendo che però bisogna stare attenti. E oggi siamo stati bravi su questo, perché nel secondo tempo non abbiamo concesso niente alla Regina, contro una squadra che secondo me è seconda in classifica forte. Beh, tre punti che sostanzialmente mettono una serie ipoteca sulla salvezza, e poi sbaglio se dico che i due acquisti, come Fior di Lino e come Celli, hanno fatto fare anche un salto di qualità dal punto di vista tecnico della squadra? Sono stati due acquisti. Chi è arrivato ha dato, oltre che chi gioca come Fior di Lino e Celli, chi è arrivato ha dato voglia ancora di inserirsi in questo gruppo. E poi credo che Celli, che sia un giocatore sottovalutato per quello che è, perché secondo me è un giocatore forte. Se poi tutti chiediamo e le rovesciate e i dribbli, io credo concretezza. E lui è un giocatore veramente concreto, sa quello che deve fare. Secondo me è pulito, sì. Fior di Lino è un giocatore che si è subito calato nella realtà, già domenica nei 20 minuti a Venezia era stato bravo, oggi ha cercato di dare un po' più di equilibrio, e poi ho dei giocatori tutti, li allargo, li stringo e quindi sono bravi. E credo che Paolo, cioè il direttore, abbia... Prima di scegliere i giocatori, noi scegliamo i uomini. Venire qui vuol dire sacrificarsi per il su Tirol. Quindi lì non esiste. Me per primo, io se devo mettere... Se sapessi che domenica vincere a Pisa vuol dire mettere Poluzzi centroavanti, lo faccio, ve l'ho sempre detto. Quindi non ho problemi, perché noi abbiamo un'identità forte. Mister, complimenti. Grazie. Nuovamente, tornando sempre sui singoli, secondo tempo importante alla regina, con un Casirasi super. Rimane sempre l'idea che rimane la tua fisca. E finché vinco mi devi dire bravo. Non a me, a Casiraghi. No, non a me, a Casiraghi. Non a Casiraghi. Lui è così, è un leader. Cioè, lui sa che può giocare dall'inizio ad essere fortissimo, ma sa che quando entra è un'affisce talmente importante che oggi sapevo che noi il primo tempo avremmo sofferto per il palleggio della regina dopo i primi 20 minuti. Sono stati bravi, ci tiravano fuori con Menes e andavano alla ricerca delle mezzale e della profondità. Quindi non volevo cercare un giocatore come Grazie a farlo rincorrere dietro. Secondo tempo, sapevo che loro forse calavano un po' fisicamente e io avevo la propensione di portarli avanti. Casiraghi è stato straordinario e ci ha permesso di... L'assistan ancora una volta l'ha fatto lui sul calcio piazzato e poi di fare tre o quattro situazioni importanti. Poi anche la partita dei rover che nel momento in cui l'hai spostato su... Sulla destra. Sulla destra, contenuto di Chiara... L'ha messo in grande difficoltà. Eh, ciò dei giocatori duttili. Noi durante la settimana, vedete, no? Ne sposto uno di qua, uno di là. Poi cerco di sbagliare il meno possibile. Ma sono talmente bravi i ragazzi che in qualsiasi posizione li metti ti danno il 100%. Rover fino al sessantesimo è stato, secondo me, un bravo. Poi dopo, Chiara, ciò dei giocatori... Anche oggi Carretta, secondo me Carretta oggi è entrato bene con la testa giusta, con la voglia di dare un aiuto a tutti i roll. Questi sono i giocatori, gli ho detto. Noi dobbiamo mettere al di sopra di tutti noi il su Tirol. Prego. Ministro, complimenti anche da parte mia. Grazie. Però anche oggi Odogo è stato devastante. Una doppietta, otto gol in stagione per un giocatore che solo lo scorso anno giocava e non giocava in Serie C. Come mai, secondo lei, ci ha messo 33 anni per capire di essere un giocatore importante di categoria adatto per la Serie B? Allora, un po' di demerito ce l'ha lui stesso, glielo ho detto, che si è accontentato di non fare quello che... io gli chiedo tutti i giorni, se lo vedo stanco, gli dico adesso corri un altro po' e così fai. È un giocatore che secondo me in Serie A ci potrebbe stare. Ragazzi, ci potrebbe stare. E quindi credo che lui si sia accontentato. Poi, che nessuno gli abbia aiutato, non lo so questo. Io ho cercato di entrare nella sua testa. C'è un fisico così, con quella velocità, con quella capacità, credo che sia un giocatore da sfruttare. Non vi dirò mai come lo sfrutto, perché sennò darei dei punti di riferimento agli altri. Oggi è stato, secondo me, devastante in 90 minuti. Vedete che quando era stante, quindi io gli dico, Odogu, e lui ripartiva. Adesso lui è un giocatore, secondo me, importante. Ora che se me lo vengono a chiedere, non glielo do neanche morto, ve lo dico. Se me lo vendono vado via a casa. Adesso sto scherzando. Però credo che in Serie A potrebbe fare la sua figura. Credo. Ecco, è vero che tu non c'eri all'andata quando appunto il Suttiro contro Brescia, Venezia e Regina ha perso le prime tre partite di campionato. Però adesso, insomma, vittoria col Brescia, vittoria col Venezia, vittoria con la Regina, quindi è stato il delito perfetto. Sì, ci siamo conosciuti, abbiamo capito. Io credo di aver capito le qualità di questi giocatori. Noi stamattina ci siamo trovati alle 10, abbiamo guardato un po' di video, li ho caricati, gli ho detto cosa dovevo fare e poi lo fanno. La bellezza di questi ragazzi è che lo fanno a scapito di mettere a repentaglia la propria prestazione. Cioè vedo dei giocatori come Masiello che ha fatto la Champions League e che ha calcato tutti i campi internazionali, viene qui, se c'è da buttare la palla in tribuna, la butta. Quindi vuol dire che abbiamo un senso di appartenenza importante. Credo che nel calcio sia la cosa più importante. Poi è chiaro che hanno dei valori tecnici, noi andavamo a fare un altro mestiere. Mister, buonasera. La scelta di Tait esterno all'inizio, come mai? Che lo vedi sempre a centrale soprattutto tu? Perché avevo bisogno di chiudere i loro punti di riferimento, avevo bisogno di non far crossare di chiara e loro si sono trovati in difficoltà. Tra i fatti i primi 20 minuti noi abbiamo avuto tre occasioni pulite, Mazzocchi due e poi abbiamo fatto gol. Poi chiaramente dopo loro prendono campo e vedo che Tait fa un po' più di fatica, lo rimetto dentro e abbiamo sistemato la situazione. Valuto. Poi sbaglio, con il Modena l'ho sbagliata completamente io e quindi ho perso. L'ho persa io la partita. Oggi mi è andata bene perché ho detto devo rivoluzionare. Perché se a me si è messo lì un giocatore che subiva solo le avanzate di di chiara, noi stavamo dietro. Come è successo poi nei 20 minuti finali e ho dovuto rimettere a posto la squadra. Devi avere anche quella forza, oltre a farti attaccare, di attaccarli. Quando ho messo l'over è rifinita la partita. Sono bravi per questo, ragazzi. Il gol della Regina sul fine del primo tempo temevi potesse avere un contrapolpo psicologico. Se non faccio tirare uno da 30 metti all'incrocio dei pali, bisogna dire complimenti a Menez. Cioè ha fatto un tiro da 30 metri. Non è che lì puoi schermare anche quella palla. Poi io mi arrabbio con i miei che forse poteva essere lì. Ma quello è una giocata di un giocatore superlativo, fuori categoria. E non ci possiamo fare niente. Io gli ho stretto la mano. Quando uno fa un gol così bisogna stringirla a mano. Come ha fatto secondo me un gol il secondo Dogu da stringirla a mano. Non è che solo bisogna guardare gli errori. Bisogna dire anche bravi agli altri. Perché se no il calcio dopo diventa solo statico. Buonasera Minister. Buonasera. Luca Galli, Ladise. Complimenti per questa vittoria. Due settimane fa dopo la vittoria col Brescia aveva detto siamo a 29 punti. Vedo un po' di luce in fondo al tunnel dopo una lunga rincorsa. Adesso c'è il rischio di abbagliarsi dopo la terza vittoria di FI. Personalmente no. E se ne vedo uno che si abbaglia fuori dall'allenamento. Piedi per terra. Sì, abbiamo in lontananza cominciato a vedere lo striscione di salvezza. Lo vediamo. Quindi finché non ci passiamo vedete che oggi tutte quelle sotto hanno vinto. Quindi chiaro che noi adesso siamo 12 punti male che vada saremo 11 punti dai play out. Però fai presto perdere tre partite in questo campionato. Attenzione. Come le possono perdere gli altri le possiamo perdere noi. Quindi io ho detto finché non vedo lo striscione che ci passiamo sotto con la testa e metto il corpo di là dobbiamo pedalare con questo. Poi se rimangono partite vedete che oggi non si sono accontentati e hanno cercato di vincere. Quindi io non mi tiro indietro. Però il primo obiettivo è mantenimento della categoria. All'ultimo minuto dei play out. Mister complimenti. Dopo la vittoria di Venezia ha detto cinismo e organizzazione. Questa partita è più un manifesto del suo verbo rispetto a quella di Venezia. Nel senso che siete stati cinici avete sfruttato le poche occasioni che avete avuto. Al di là poi della capacità di soffrire e di organizzarvi a seconda dell'avversario. Allora doveva finire 0-0 la partita. Perché loro tranne un tiro in porta non hanno fatto niente. Tranne l'attraverso sul calcio piazzato io invece sul calcio piazzato ho fatto gol. Perché questa secondo me è stata una partita che ci siamo combattuti tutte e due armi pari. E quindi chi aveva quella forza un po' di più di spirito di cattiveria di sofferenza poteva portarla a casa. Il nostro marco di fabbrica. Noi più soffriamo meglio è. se noi le partite sono facili ma voleva essere insomma no no ho capito io no no l'ho capito ma io certo certo ma io ho detto il primo giorno che sono arrivato se sapessi domenica che Poluzzi fare il centroavanti vinco io se mi ride tutto dietro l'Italia ormai non mi interessa più niente tanto io sono fuori dai salotti per bene quindi io dove mi chiamano vado quindi non mi interessa quindi se Poluzzi dice misterio domenica ciò lo metto non ho paura di farlo per il su Tirol poi se mi rideranno dietro pazienza va bene? su questo gli ho già spiegato come funziona no siccome abbiamo questo senso d'appartenenza quindi quando tutti vengono sostituiti tutti vogliono partecipare alla sofferenza in panchina è chiaro che quando vado in panchina devo stare zitto devo stare zitto Dio buono ecco domenica perdiamo un giocatore perché ha preso una doppia munizione quindi particolare però secondo me è anche questo è un senso di grande appartenenza che i giocatori senza fare la doccia si cambiano la tuta e vengono in panchina l'unica cosa che adesso domenica siamo senza giocatori e quindi pagherà sicuramente qualcosa mister l'ultima Marconi non è entrato oggi tu ritieni di dargli una chance a Pisa oppure è già ma come faccio a saperlo da qui a Pisa voglio dire già i saluti c'è da qui a Pisa quante formazioni farò ho 250 e l'esposto qui te l'ho detto ieri cioè io non so chi farò giocare sabato a Pisa può darsi che oggi non ha giocato Giorgini e domenica giochi cioè non lo so io ho detto che non mando via nessuno non boccio nessuno faccio delle scelte certamente saranno sbagliate e non è la verità attenzione non è la mia è la verità assoluta è la mia verità per il mezzo di ruolo poi se uno dice a me mi piace giocare come ha fatto Crociata è chiaro tanto di cappello Crociata venga però io qui prometto posto nessuno neanche se venisse Van Basten che vi ricorderete tutti perché vedo che l'età è abbastanza avanzata come la mia scherzo Van Basten si deve conquistare il posto va bene grazie grazie mister grazie a tutti grazie a tutti